Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Per l'ex sindaco di Venezia, Cacciari, le regionali in Emilia-Romagna saranno un test decisivo per la tenuta del governo e soprattutto per il Partito Democratico. Le Sardine, dice, assicureranno la vittoria del PD. Secondo Massimo Cacciari, l'alleanza giallorossa è strutturalmente in bilico in quanto nasce dalla dannata paura dei Cinque Stelle di andare alle elezioni e dalla vocazione ministeriale del gruppo dirigente democratico, perfettamente consapevole di non saper più fare l'opposizione e nemmeno le campagne elettorali, spiega il filosofo. Il PD in Emilia non perderà, ma per il momento il governo è così fragile che può cadere su qualsiasi buccia di banana. Tuttavia, Cacciari non ha alcun dubbio sul fatto che Bonaccini guadagnerà la competizione elettorale in Emilia-Romagna. Spiega le tre ragioni che assicureranno la vittoria al PD. Primo perché l'Emilia-Romagna è conservatrice, poi perché dall'altra parte c'è l'impresentabile, infine perché sono nate le Sardine. Se però questa previsione non dovesse averarsi, sarà la fine del governo. Non credo che il governo reggerà, il colpo a livello di immagine sarebbe troppo forte. Adesso parliamo di cronaca. Ancora morti sulle strade, incidente grave, si è verificato a Scorzè. Le immagini sono veramente eloquenti. Schianto violentissimo domenica mattina a Scorzè, in provincia di Venezia. Lungo via Tito Speri, il conducente di una Golf, ha perso il controllo del mezzo. L'auto è finita contro un albero e ha terminato la corsa dentro al fosso che costeggia la strada. L'impatto è stato talmente violento che la macchina si è spezzata in due. Non c'è stato nulla da fare per i passeggeri, i sanitari del 118 ne hanno dichiarato il decesso. Il conducente è rimasto ferito in maniera grave, stabilizzato sul posto, è stato trasferito all'ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e si sono occupati di portare all'esterno della macchina i due uomini. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso. Ancora cronaca, parliamo adesso di due diverse località che sono però state coinvolte dallo stesso problema, l'intossicazione. A Nogare, in provincia di Verona, una famiglia padre, madre e figlio è rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Le tre persone sono state soccorse dai sanitari del SUEM 118 e trasportate in codice verde all'ospedale di Legnago in camera iperbarica per le cure del caso. Secondo i primi rilievi, l'intossicazione è stata causata da una stufetta artigianale utilizzata per riscaldare l'ambiente. A Rovigo, invece, del fumo emesso da un bracere usato per scaldarsi, ha intossicato dieci persone, di cui quattro minorenni. Il fatto è avvenuto a Bosaro, in provincia di Rovigo, in uno scantinato dove vivevano dei cittadini marocchini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri che hanno soccorso le persone, tutte coscienti, portandole negli ospedali di Adria e Rovigo per gli accertamenti. Rimaniamo a Rovigo, questa volta per parlare dell'ennesimo maltrattamento verso gli animali. Un cucciolo lanciato dal finestrino di un'auto in corsa che poi si è dileguata senza lasciare traccia. C'è questo l'ultimo episodio di inciviltà venuto a Rovigo, a San Pio X, a denunciare il fatto la lega del cane Rodigina che lancia un appello per eventuali testimoni per intracciare chi ha compiuto un gesto tanto orribile. Purtroppo non è stata letta la targa, la macchina è una berlina scura, il cane è bianco di taglia piccola con pelo di media lunghezza. È stato lanciato dal finestrino tra le scuole elementari e la pista ciclabile verso Rover di Cre. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il cane, fortunatamente sopravvissuto, è molto spaventato e non si lascia avvicinare. Chi abita o passa di lì presti la massima attenzione. Ancora cronaca. Pensate, un individuo appena rilasciato dopo poco è stato sorpreso ancora a delinquere. Altro servizio, il prossimo che mette in evidenza questa pietosa falla della nostra burocrazia. A meno di 24 ore dal fermo, un giovane marocchino rimesso in libertà dopo il processo per direttissima per furto e rapina, è tornato in azione. Il giovane è stato sorpreso nuovamente in un negozio del centro di Padova a rubare. Solo il giorno prima non aveva esitato a sferrare un pugno in faccia a un tabaccaio. In barba alla giustizia e con la sua libertà, ha evidentemente pensato di poterla fare franca un'altra volta. Le forze dell'ordine lo hanno bloccato in pochissimo tempo. Nella mattina di lunedì sarà ancora davanti al giudice del Tribunale di Padova. Dopo un relativo periodo di tregua, un nuovo assalto notturno a uno sportello banco. Matteo è accaduto l'altra notte in una filiale carige a Jesolo. Ad accorgersi del colpo è stata una guardia giurata che ha dato l'allarme sul posto, arrivati i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. Cambiamo adesso argomento e parliamo di saldi. Quest'anno arriveranno prima del solito. Vediamo il perché. Le date che tutti attendevano. Saldi invernali dal 4 gennaio 2020 a Padova. Prima del solito, i prossimi saldi invernali e provincia inizieranno sabato 4 gennaio e se concluderanno venerdì 28 febbraio. A stabilirlo è la delibera di giunta regionale che regola le vendite straordinarie per tutto il Veneto e che recita testualmente. Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al 28 febbraio. Dopo aver parlato di saldi andiamo a vedere a che punto è la vendita di biglietti della Lotteria Italia. Nel Veneto si spera di avere qualche buona vincita come si è verificato lo scorso anno. Come ogni anno, la Lotteria Italia fa sperare milioni di persone alla ricerca del tagliando fortunato. Il richiamo della Dea Bendata permette la vendita di tantissimi biglietti anche nella nostra regione, come dimostrano i numeri. Sono infatti oltre 477.000 i biglietti della Lotteria Italia, per la precisione 477.610, che sono stati venduti lo scorso anno in Veneto. A Verona e provincia la maggior parte di tagliandi staccati. Tra le altre province, Venezia conquista ancora il secondo posto, mentre Padova è stata terza. A Vicenza il quarto posto con 55.000 tagliandi, poi Treviso, Rovigo e Belluno. In Veneto, nell'ultima edizione, sono stati assegnati due premi da 50.000 euro e ben 11 premi da 25.000 euro. L'ultima seduta di giunta regionale dell'anno, su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha dato il via a Libera nuovi investimenti per un totale di 90.300.000 euro da dedicare a 31 progetti presentati dall'Ulss e aziende ospedalieri e valutati positivamente dalla Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia. Ogni euro di spesa, sottolinea la Lanzarin, è stato esaminato con rigore, per cui siamo di fronte a una forte iniezione di finanziamenti tutti necessari per garantire lo sviluppo dei livelli di qualità della nostra sanità e l'operatività delle strutture sanitarie con l'acquisto di macchinari, strumentazioni, presidi sanitari, robot chirurgici e interventi di tipo strutturale. Manteniamo anche in questo caso l'impegno, più volte ribadito, di continuare a investire per crescere in un settore come la sanità, dove se stai fermo in realtà arretri. Il Veneto quindi avanza ancora e non fa un passo indietro. Due i finanziamenti che riguarderanno il territorio padovano, Ulss 6 Eugania e azienda ospedaliera di Padova. A Venezia quest'anno per il Capodanno, pugno di ferro da parte dell'amministrazione comunale riguardo i temi della sicurezza e il decoro della città. Capodanno a Venezia 2020, severe le norme che riguardano ordine e incolumità pubbliche. Il comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, ha infatti emanato un'ordinanza in questo senso per la notte di San Silvestro e il Capodanno, tutto in modo da garantire un ordinato svolgimento degli spettacoli Laguna e Terraferma, consentendo a tutti di divertirsi in sicurezza. Il provvedimento prevede dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 6 del 1 gennaio il divieto per le attività commerciali e gli esercizi pubblici di vendere e somministrare bevande, compresi alcolici e superalcolici, in bottiglie di vetro, lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate. Vietato anche assumere e trasportare nella pubblica via bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica, termos e ogni altro tipo di contenitore. Vietato infine l'uso e la detenzione di spray a base di peperoncino o simili. Attenzione alle trasgressioni. Il mancato rispetto dell'ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 25 fino a 500 euro. Concludiamo come sempre dando un'occhiata alla meteo. Il progressivo rinforzo di un ampio anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale determina una situazione di stabilità per buona parte della settimana. Si avranno giornate in prevalenza solegiate, salvo occasionale presenza di nuvolosità senza precipitazioni. Formazione di inversione termica notturna via via più marcata che determinerà condizioni favorevoli alla presenza di foschie o nebbie in pianura, specialmente verso le ore più fredde. Le temperature particolarmente miti in quota e gelate diffuse anche in pianura. Il tempo per oggi stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo presenza di locali nubi, basse, nebbie sulla pianura meridionale e occidentale. Temperature massime stazionari in pianura e un aumento in quota con valori un po' superiori alla media del periodo. Dopo il tramonto, probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. 20 in prevalenza deboli occidentali in quota moderati da nord-est. E tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione. Come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata con Telecittà. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Autore dei sorrisi